Ieri, durante la trasmissione televisiva diretta a Stadio su 7 Gold, la strepitosa Marika Fruscio si è lasciata andare a un gesto inequivocabile, infatti si è tolta il reggiseno. Marika Fruscio si toglie il reggiseno. Avete capito bene, cari utenti, da queste foto che vi sto proponendo prese dal web, infatti potete vedere voi stessi la bella Marika con in mano il reggiseno di colore bianco in mano. E' stata felice, è stata soddisfatta, ci ha regalato veramente delle grandi emozioni la strepitosa Marika e ci ha deliziato veramente con la sua capacità, con il suo sex appeal che rappresenta sicuramente il valore aggiunto di questa strepitosa donna. Una donna che sa portare con grinta, con classe e con determinazione il suo fascino e devo essere sincero, cari utenti, io Marika Fruscio l'amo da morire veramente. Lo dico sapendo quel che dico, mi piace da impazzire, è una donna veramente incredibile, unica, strepitosa, sexy, una bambola veramente in carne d'ossa che fa veramente drissare di emozioni ogni uomo secondo la mia opinione. Una donna come lei penso che debba essere amata e apprezzata perché rappresenta sicuramente la bellezza più pura che possa esistere in questo mondo. Cara Marika, sei veramente una bomba erotica, io ti amo da morire, mi fa impazzire, spero che la tua bellezza non svanisca mai e al tempo stesso che quel corpo morbido e strepitoso che hai sia sempre così mantenuto in forma e sai quanto, nel senso, siccome siamo visti su Facebook, sai quanto ti apprezzo e ti ammino molto. Insomma, è veramente una Marika Fruscio che è riuscita a emozionare tutti, una Marika Fruscio in gamba, speciale e buona d'animo. Complimenti Marika, iscrivetevi, commentate e scusate per lo sbattiglio ma sono un po' assornato. Non sono un giornalista, tengo a specificarlo e cara Marika, tanti auguri di buon lavoro a te, tanti auguri per ogni cosa buona a te. E ti dico che per me sei la migliore donna d'Italia, sei la più buona d'Italia. Grazie di esistere e un bacio da un tuo fan.